Il caseificio Roncoscaglia di Sestola festeggia il sessantesimo di fondazione con un nuovo punto vendita e una sala polivalente museo. Grazie a un finanziamento ottenuto dal Gallo Antico Frignano e Appennino Reggiano il caseificio ha investito quasi 200 mila euro per costruire una struttura a forma di casello sul modello dei caseifici che fino ai primi anni 50 caratterizzavano le nostre campagne soprattutto in pianura. L'edificio occupa una superficie di 150 metri quadrati e comprende una sala polivalente museo con gli attrezzi che si utilizzavano in passato per la lavorazione del formaggio e uno schermo sul quale sono proiettati filmati sulla cultura rurale locale. La sala serve anche per la presentazione e gli assaggi delle produzioni tipiche. Oltre a parmigiano reggiano di montagna, burro, ricotti e golosino si possono degustare i salumi ottenuti dai maiali allevati in caseificio e trasformati in conto lavorazione da un'azienda familiare locale con metodi tradizionali e aromi antichi. Ci sono poi il nuovo negozio per la vendita diretta e un laboratorio per il confezionamento del prodotto. Questo investimento così un po' diverso dal solito cioè con un negozio fatta forma di vecchio casello intende venire incontro alle esigenze nuove del consumatore che vogliono collegare il prodotto di qualità come il nostro a un discorso culturale di agricoltura locale. Fondato il 7 marzo 1954 in Roncoscaglia è stata una delle prime cooperative casearie nate nell'Alto Frignano. Aderente a Conf Cooperative Modena ha attualmente nove soci che trasformano in parmigiano reggiano di montagna 17.500 quintali di latte. La produzione si aggira sulle 3.200 forme l'anno.